Professoressa Bandini, in cosa consiste il test di Turing e perché è stato ideato? Il test di Turing è stato ideato, il nome lo dice, da Alan Turing, che è uno dei più grandi scienziati del secolo scorso e riguarda il fatto che si possa fare un test per verificare se dei computer possono essere scambiati per degli esseri umani. Il suo test consisteva in un set sperimentale composto di tre elementi, un interlocutore chiuso in una stanza ed altri due interlocutori posizionati in altre due stanze che non possono che comunicare attraverso un cavo. Uno di questi interlocutori è un essere umano, l'altro era una macchina e ai tempi di Turing poteva comunicare attraverso una telescrivente. Allora, se il primo soggetto non era in grado di distinguere sulla base di certe domande se stava parlando con la telescrivente o con l'essere umano, vuol dire che era stato superato un test. In effetti, per la prima volta da quando è stato concepito, una macchina ha superato il test di Turing. Significa che è nata un'intelligenza artificiale? Credo che non sia il modo valido per vedere se c'è o meno un'intelligenza artificiale. Il test di Turing è un old-fashioned, un vecchio modo di valutare delle tecnologie che oggi sono molto avanzate che quindi permettono di confondere quello che sono dei modi intelligenti per sviluppare delle conversazioni con le macchine con quella che è l'intelligenza, che siamo ancora molto lontani da pensare che l'intelligenza umana possa essere ridotta a una conversazione circoscritta. La conversazione è, nel caso del vincitore di quest'anno, che è un chatbot, cioè un conversatore su internet che è Mitsuko di Stephen Worswick e in precedenza ci sono stati altri di questi personaggi artificiali che avevano conversazioni con gli utenti, ad esempio il caso di Eugene Goodsman di cui si parla molto e che ha partecipato ad edizioni precedenti. Tutti questi personaggi artificiali sono molto circoscritti dal punto di vista del loro contesto, un ragazzino, una teenager, quindi stiamo parlando di domini circoscritti in cui il vocabolario è ridotto. I personaggi artificiali sono davvero in grado di pensare o sono solo molto bravi a imitare? Non sono assolutamente in grado di pensare se noi intendiamo pensare l'attività che noi, gli esseri umani, compiamo quotidianamente, quindi sono in grado di imitare, emulare in certi casi, ma non sono assolutamente competitivi con gli esseri umani. Dopo questi successi ottenuti col test di Turing, gli utenti devono temere un incremento delle frodi informatiche? Gli utenti devono temere le frodi informatiche che vengono fatte ad opera di esseri umani che sviluppano questi programmi, non è certo un problema delle macchine.